classe A categoria 45, 54 anni, una finale a tre coppie per le coppie numero 170, 145, 158 e ancora in pista per la classe A categoria 61 e oltre una finale a due coppie fra le coppie numero 173 e 183 Pannello giudicante formato dai signori giudici Spinaci, Filippini, Alberghini, Giovanardi, Antonella Gettaroli, Iannussi, Orlati, Zamagni, Brugnoli, Tuminello, Bandoli, Olivieri Gettaroli, Iannussi, bene siamo pronti primo ballo per voi balzer buongiorno Grazie a tutti Grazie a tutti Molto bene, grazie A seguire si prepara la classe A2, categoria 16-18 anni per una finale a 6 coppie Signori per voi, secondo ballo di finale, DJ Mazzurca 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 Molto bene, signori, grazie, complimenti per la vostra Mazzurca Gentile pubblico, una comunicazione di servizio E' stato smarrito un telefono cellulare, un honor colore nero Per chiunque di voi l'avesse trovato è pregato di portarlo alla postazione del DJ Grazie A seguire si prepara la classe A2, categoria 16-18 anni per una finale a 6 coppie Signori andiamo a concludere la vostra finale con il terzo e ultimo ballo DJ Folca Mazzurca 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.